Per imparare da istruttori qualificati le tecniche di approccio e gestione di soggetti non collaborativi, può capitare infatti che gli agenti si trovino di fronte a persone aggressive e in stato di agitazione quando non manifestamente violente, essere preparati in questo senso aiuta a risolvere la situazione in maniera pacifica e senza conseguenze. Il tutto è incentrato sui principi di sicurezza per l'operatore, per la sua sicurezza, per la sicurezza di un ambiente di lavoro, alla fine.